Mi chiamo Giorgia, sono di Genova e abito qui alla Tabacca, che è una casa nel bosco. È una progettazione in permacultura, quindi vuol dire che è una progettazione ecologica, che ha l'obiettivo proprio di creare insediamenti stabili, umani, stabili e sostenibili. Ha un approccio ecologico molto forte, ci sono dei principi per noi molto importanti, che sono il recupero dei materiali, l'utilizzo di risorse locali, alcune materie prime, come per esempio il nostro legno, tecniche innovative e ecologiche, e una modalità anche di vendita, che parta dallo sviluppo di filiere sostenibili, incominciando proprio dalle famiglie vicine a noi, fino ad arrivare alla vendita in piattaforme ecologiche, site sul territorio di Genova. L'agricoltura sinergica è un metodo di agricoltura naturale, che ha l'obiettivo di mantenere la fertilità del suolo, ispirandoci ai modelli naturali. Si viene a ricreare un orto permanente e a creare quindi un ecosistema. Ci sono dei principi fondamentali, che sono il non utilizzo di sostanze chimiche, le consociazioni delle piante, la pacciamatura, cioè la copertura costante del terreno, in modo tale che si vada a biodegradare e creare sostanza organica. Ci si ispira quindi a dei modelli naturali, ci si ispira molto al bosco. In questo modo, attraverso l'utilizzo di questi principi, si viene a creare la sostanza organica necessaria per far crescere le piante forti e sane. Crediamo che questo processo, che è un processo anche partecipato, debba passare attraverso il coinvolgimento dei giovani, in modo tale da creare un modello che possa essere replicabile e soprattutto che crede gli immaginari possibili, dove le persone possano replicare anche quello che imparano qua. I popoli di tutto il mondo, io chiedo di far sentire la propria voce, di sentirsi autorizzati di alzare la voce e di realizzare i propri sogni e le proprie idee e di costruire giorno per giorno quell'ideale di mondo che ognuno di noi ha nella testa. Grazie. 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 Grazie.